Le opposizioni fanno quadrato e chiedono formalmente la convocazione di un consiglio comunale urgente sul ponte. Dito puntato contro l'amministrazione comunale, Rea ha loro avviso di aver comunicato tardivamente la decisione di separarsi con la Vardanega. C'è grande preoccupazione da parte di tutti, da parte dei cittadini, da parte ovviamente anche di noi consiglieri comunali. Di conseguenza chiediamo questo consiglio urgente anche perché riteniamo corretto che il luogo deputato alla discussione e anche all'illustrazione di quello che sta succedendo sia proprio la sede istituzionale, cioè il consiglio comunale. C'è anche chi si spinge oltre chiedendo l'arrivo in città di un commissario più morbida, la linea di Mariano Scotton. Io voglio conoscere i fatti direttamente dalla voce del sindaco e dalla maggioranza e questo è il mio unico obiettivo. L'amministrazione intanto ha già fissato per martedì l'ufficio di presidenza che avrà il compito di stabilire la data del consiglio in cui fare chiarezza nella sede istituzionale di quel che è successo e di quel che succederà sul ponte. Rete Veneta nel frattempo sostiene come questo dovrebbe essere il momento per mettere da parte le polemiche, ritrovare o trovare per la prima volta l'unità così da mettere a segno un'azione coordinata e collettiva a supporto dell'amministrazione comunale. Azioni forti e collegiali che permetano all'aggiunta Poletto di portare il ponte fuori dal guado.